Ma è un po' incastrata perché la stai pressando con la tua porra, tienila libera, vai vai, è libera sicura è a posto. E qua il centimetro di cassa toracica fa la differenza. Adesso un attimo, molto delicati adesso, aspetta, piadino, piadino, si va bene, ecco Tosca, fammi vedere la ghina di Tosca, Tosca.